Palla in avanti, può metterla giù, anticipato dalla difesa in seconda battuta La difesa rendenese si salva ma arriva in un buon momento, insista ancora sulla destra Può mettere il cross, finta di tiro La mette dietro, controlla il pallone, la mette in mezzo per Fruner Che prende in controtempo il portiere, stacca di testa e trova il 2-3 Grazie